Fiato ai Libri è tornato e sono tornati i suoi bellissimi spettacoli di teatro lettura. Storie e letteratura per tutti, perché nessuno si sente escluso dalla bellezza dei libri. Domenica 14 novembre su Bergamo TV alle 21, la straordinaria Lucilla Giagnoni ci leggerà finché il caffè è caldo in uno spettacolo con musica dal vivo. E non è tutto, ogni giorno alle 11.50 e alle 17.45 aspettando Fiato ai Libri, dove vi parleremo di libri, di autori, di curiosità, di interpreti. Preparatevi alla meraviglia, Fiato ai Libri!